Viene chiesto un confronto tra due ectoplasmi praticamente. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Aussai, definisce il duello nel collegio triestino per la Camera tra Renzo Tondo e Deborah Serracchiani. Perché la Presidente, grande lavoratrice, ha lavorato più per lei che per la Regione ed era poco a Trieste e molto a Roma. Dopo giudicheranno gli elettori, i telespettatori, se ha lavorato più per fare bella figura e per costruirsi una posizione e un tramponio di lancio per poi andare a Roma o se ha lavorato più per tutelare gli interessi della Regione. Tra l'altra parte abbiamo un ex Presidente di Regione che, devo dire, sinceramente io ho visto poco seduto in Consiglio regionale. L'ho visto qualche volta durante le votazioni dei bilanci. Rispondendo sulla questione rimborsopoli che ha investito i 5 Stelle, Aussai torna all'attacco del PD con un affondo proprio alla Presidente della Regione. Il PD, ad esempio, a dicembre c'era sul Corriere della Sera il problema che circa una cinquantina di persone non aveva dato i soldi al partito, non aveva mantenuto. Noi non diamo al partito ma restituiamo alla Regione per aiutare le piccole e medie imprese. Se poi vogliamo parlare di mancate rispetto di quelli che sono gli impegni presi in campagna elettorale, sempre per quanto riguarda lo stipendio, io vorrei mostrare a tutti che questo è un poster che c'era attaccato sulle pareti di molti edifici in campagna elettorale nel 2013, dove la Presidente Seracchiani prometteva di tagliare il 50% dei compensi dei consiglieri regionali. Ecco, questo impegno elettorale non è stato mantenuto.